cari lettori di extreme hardware questo è il video di presentazione del fan controller fobia tpc 4x fan overpump controller da 30 watt sarà semplicemente un video esplicativo delle funzioni principali ed un confronto diretto con il modello lamptron fc5v3 che vedete precisamente lì sotto il modello fobia è questo qui in alto e presenta quattro canali con quattro potenziometri separati e quattro sensori di temperatura un fan controller elementare se vogliamo però è carino e presenta anche un frontalino in alluminio quindi perfetto per l'integrazione in cabinet adesso procediamo all'accensione vi vogliamo far notare anche l'accensione comparata appunto tra i due modelli il primo che presenta uno starting voltage da 12 volt e sebbene il fobia non indichi la presenza di questa caratteristica come vedremo l'evento le partiranno automaticamente da notare il fatto che sui potenziometri sono tutti settati al minimo alimentatore acceso potenziometri al minimo ventole che partono e si fermano quindi c'è un accensione lo start up voltage è presente in entrambi i modelli qui è la colorazione e presenta un blu acceso per il modello fobia tpc in questo caso nell'amptron abbiamo scelto una colorazione blu sebbene siano presenti addirittura 16 colori diversi qui nel modello fobia troviamo in alto a sinistra e gli rpm mentre a destra i sensori di temperatura che come vedete presentano una differenza di circa 2 gradi sebbene il posizionamento sia esattamente identico per regolare le ventole basta semplicemente agire sul potenziometro e aumentare gli rpm e da notare il fatto che il sensore come il c'è questa immagine che mostra la semplice rotazione della ventola ecco qui il lamptron non è stato settato adesso aumentiamo gli rpm partono i voltaggi e cominciamo a girare le ventole ovviamente la rotazione delle ventole non è perfettamente identica per via del modello che sebbene presenti lo stesso seriale però non sempre presenta le stesse caratteristiche tecniche e lo stesso range infatti il primo va a 1200 e il secondo a 1020 è fondamentalmente irrilevante dato che comunque la rumorosità queste sono due ventole del cabinet BitPhoenix Proligi esattamente identiche quindi c'è sempre questa piccola discrepanza tra le misurazioni bene questo era un piccolo video dimostrativo commentate la recensione buona lettura grazie a tutti Grazie a tutti.